Ok, continuiamo il nostro allenamento per le braccia al posto dei pesetti. A casa tutti abbiamo una bella bottiglia da controllo merito. Possiamo usarli per chiedere l'acqua. Ricordiamoci che abbiamo sempre la nostra sedia al supporto. Quindi io allenerò le braccia e contemporaneamente continuerò ad allenare le gambe. Esercizioni in particolare. Quindi da qui, vado a sedermi, ispirare la sedia e alzo le braccia. Ricordate di tenere le spalle a tutela dalle orecchie e di fare bene le scapole. Do, tre, secondi. Cambierai esercizio. Braccia stesa inizialmente. Sol, pollici alzati. Così ricordiamo la direzione che devono andare le braccia. Dopo 30 secondi cambierai l'esercizio. Pensate a un bello asso. Spiorate sempre, cominciate a vedere. E stop. Grazie.